Skriniar, Inter insieme fino al 2023, che cosa provi? Sono molto contento che ho promulgato il contratto con l'Inter, voglio ringraziare la società, anche i tifosi per la fiducia che mi danno sempre e sono contento che posso continuare con l'Inter. Addirittura dicono che hai firmato il contratto senza il procuratore Skriniar. Sì, è vero, ho interrotto il contratto con il mio vecchio procuratore e ho promulgato il contratto con l'Inter personalmente. Dal primo giorno i tifosi hanno dimostrato tantissimo affetto nei tuoi confronti, quanto ti hanno caricato in questo tempo passato insieme? Sai, ti posso dire che subito dopo le prime partite amichievole che ho giocato, adesso posso dire che ho giocato abbastanza bene, che mi hanno cominciato a scrivere su Instagram. Ero molto contento perché prima non ho mai visto queste cose, quindi ero molto contento. Se il primo giorno ad Appiano Gentile ti avessero detto che saresti stato un totem al centro della difesa e che avresti rinnovato con questi colori fino al 2023, ci avresti creduto? Anche quando sono arrivato qua nell'Inter era una sorpresa per me, soprattutto per quello che ho iniziato subito a giocare. Quindi ero molto contento, molto orgoglioso e adesso ancora di più che ho promulgato il contratto per altri anni che posso vestire questa malia. Qual è l'emozione più grande che hai vissuto in questo biennio e quella che invece vuoi ancora vivere? Adesso era quella che sicuramente abbiamo qualificato per la Champions l'anno scorso, poi sicuramente partite in Champions League e purtroppo è finita come è finita quella Champions League. E poi credo che anche questo anno sarà una gioia bella, quella qualificazione per la Champions che ci manca ancora una vittoria. Infatti perché si avvicina alla fine del campionato, è la Champions l'ultimo regalo quindi? Sì, sì, quello sarà un regalo bellissimo e credo che lo possiamo fare. L'ultima Milano è la faccia sul Napoli, il prossimo avversario è già sicuro nel secondo posto, con una vittoria voi però sareste sicuri della Champions League. Come si affronta questo tipo di squadra? Questo contro il Napoli è sempre una bella partita, una partita aperta dove sicuramente noi vogliamo andare lì a vincere e chiudere tutti questi discorsi e qualificarsi per la Champions. Non vogliamo aspettare per l'ultima partita che ci aspetta poi in casa, lo vogliamo fare subito e bisogna andare lì a dare tutto e vincere questa partita. E allora grazie, complimenti ancora con Milan Skriniar all'Inter fino al 2023. Grazie. Grazie.